A luglio il traffico aereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo rileva Eurocontrol, evidenziando che in circa la metà degli stati i livelli di traffico sono uguali o superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell'Europa sudorientale. Tuttavia a luglio il vecchio continente ha vissuto condizioni meteo estreme e il ritardo nella gestione del flusso del traffico aereo legato al maltempo è stato di oltre due volte e mezzo rispetto al 2022. Il maggiore impatto è stato registrato in Germania, Ungheria e Serbia. Negli aeroporti i maggiori ritardi legati alle condizioni meteo si sono verificati a Francoforte, Gatwick e Monaco. Senza l'elemento maltempo i ritardi si sono ridotti di quasi un quarto fino a due minuti e mezzo per volo, nonostante la crescita del traffico.